Questo cinema, pur non essendo in periferia, però praticava dei prezzi nelle possibilità economiche del ceto operaio. Fra questi vi ero anch'io, lo frequentavo abbastanza sovente questo cinema. Oltre a questo poi vi erano i cinema di periferia, frequentati dal ceto operaio, insomma abbastanza, però con un decoro abbastanza, allora erano film muti, la musica era costituita da un pianista cieca o cieco che suonava durante il film e così si andava avanti in quel periodo e si poteva spendere quei 15-20 soldi, anzi, sì 15-20 soldi perché a 25 soldi si pagava l'Itala, il cinema Italia di Via Viotti, era già un cinema abbastanza così. Allora non era film di luce rossa, era film, si proiettavano film, poi non c'erano ancora neanche i film a luce rossa, quindi si guardava quello che c'era. Proprio in questo film si è proiettato il film La Folla, diretto da Keith Vidor, non mi ricordo più i nomi degli interpreti, ma un film che devo dire che quando è cessata la proiezione, finita il film, ho sentito la necessità di uscire dal film per qualcosa e di non prendere il tram là che mi portava a casa in un quarto d'ora, ma ho cominciato a passeggiare, a fare una bella camminata per passare mentalmente questo film, talmente mi ha colpito nella sua realtà. Questo film che parlava al mondo, che parlava alla gente, parlava al popolo e appunto perché si aveva un'idea a quei tempi là e anch'io era un ammiratore della democrazia americana, però faceva vedere l'America nei suoi risvolti più, direi così, più deteriori, cioè l'America anche della disoccupazione, l'America dei sacrifici, l'America che sacrificava anche la donna, cioè la sposa, la madre dei figli che si arrabbatava a cucina, a cucina macchina, insomma per mandare avanti la famiglia, dovuta alla disoccupazione di noi, quindi l'America che aveva anche lei la sua povertà, aveva anche lei i suoi cruci, non l'America di prendere a calci i dollari. Il ricordo continua a esserci, alla fine del film si vede un circo equestre, ma poi con una platea enorme, e lì questa platea che rideva a spartagola, e lì veniva fuori sul filo scritto, ecco la folla che ride, è guaia se non ridesse qualche volta.